All'attivo anno oltre 1500 spettacoli, decine di partecipazioni ed esibizioni sui faccoscenici di tutto il mondo per un totale di 67 album autoprodotti in 10 lingue. Protagoniste le 21 artiste di genre verde, provenienti da 14 nazioni diverse da anni, portano avanti un progetto in cui l'arte diventa filo conduttore e strumento per mettere insieme cultura della pace, dialogo e accoglienza. Essere e riscoprirsi cittadini del mondo attraverso i valori della diversità e della creatività, andando nelle scuole tra gli studenti per coinvolgere in workshop e nelle proprie esibizioni per sviluppare talenti e scoprirne di nuovi. E' Gen verde proprio in questi giorni approdato a Palermo per il progetto Start Now con gli studenti del liceo scientifico Ernesto Basile di Brancaccio. Anche loro insieme alla band saliranno sul palco del Palau Reto il 3 febbraio alle 20.30 per una serata inserita tra le attività dell'open day, per poi uscire fisicamente dai confini del loro quartiere e raccontare le proprie esperienze il 5 febbraio al Teatro Golden alle 18 e alle 21. Uno spettacolo che tra canti e maglie, esibizioni teatrali e percussioni servirà a condividere il linguaggio universale dell'arte che non conosce e non concepisce muri. Una parola che oggi dopo anni ritorna prepotente nelle cronache e nella politica internazionale, una parola di cui anche attraverso questo spettacolo fatto di storie, di gesti di speranza, solidarietà e condivisione, forse non se ne sente davvero la necessità.